Musica Ti sono, una bella domanda. In questo momento sono un meccanico ciclista, seduto su una panca di pietra. In altri momenti sono altre cose. Scrivo, bevo, fumo. Normalmente tutto quello che conosco di me vale fino a questa sera, per cui magari se ci risentiamo domani ti dirò un'altra cosa. La letteratura non porta, non ci compri il pane, non ci riempi il frigo, per cui io mi sono inventato un po' questo lavoro che è la ciclofficina itinerante. Cioè vado a casa della gente a fare le riparazioni, oppure in ufficio piuttosto che nel tragitto tra casa e ufficio dove si è rotta la bici. Sono uno che scrive e uno che è apprezzato. Questo mi fa piacere. Credo di aver letto tre libri. Pinocchio, Gabbiano Jonathan Livingston e forse, sì, il diario di una professoressa. Per cui, insomma, con queste credenziali scrivi e poi stai buono. Quando l'alcol non basta, perché l'alcol non basta, l'esigenza è lì che preme, gli devi dare ragione, la devi soddisfare questa esigenza perché se no diventi matto. E poi il piacere è subito dopo aver finito un pezzo, che può essere una poesia, un racconto, e beh, il quarto d'ora dopo è un orgasmo straordinario. Dura un quarto d'ora e poi ricomincia, devi continuare a scrivere. L'allevatorio di Farfalle contiene una serie di poesie che ho cominciato a scrivere quando sono in strada, quando ho cominciato a pedalare, insomma. Per cui nel 2005 ci sono anche racconti recentissimi che hanno poche settimane, fra l'altro, in questo libro. Tutto il mio percorso all'interno della casa, le storie non scritte sono destinazioni ad essere lette e ce l'ho messo perché il comunista, sindacalista che c'è dentro di me, insomma, un po' ce l'ha questa roba qua del dare la parola, no? Io me la sono presa e ho scoperto, mi è venuta voglia di riproporre questa cosa a tutti, secondo me tutti possono scrivere. Gli altri hanno l'opportunità di vedere una cosa specchiata nei tuoi racconti, nei tuoi scritti, che magari è molto simile al suo vissuto e che però magari tiene chiuso. Io invece sono sfacciato, spudorato, ineducato e scrivo esattamente tutto, in voglia di dire, dalle infrattate notturne nei parchi, con personaggi assolutamente sconosciuti, ai momenti più belli e sereni. Quando tu ascolti delle storie di persone che magari non scrivono, ti raccontano delle storie talmente straordinarie, ma anche solo stando zitti alla fermata di un pullman, se tu ti fermi a guardare una persona, c'è una storia e te la racconta lui. Non si possono sciupare le parole, cioè io ho già poco, metto anche a sciupare quel poco che riesco ad emettere, è la disfatta. Grazie a tutti.